Allora noi non avevamo la possibilità di coprire i posti di pronto soccorso, adesso faremo gli ultimi tentativi, intanto faremo un concorso unico regionale, vediamo se per la verità abbiamo registrato qualche segno di attenzione in più negli ultimi tempi. La gente comincia a rivenire, a ritornare in Campania, sinceramente. Bene, faremo un concorso unico regionale, cercheremo la prossima settimana di utilizzare tutti gli idonei di tutte le graduatorie, di tutte le asle e aziende della regione per verificare la disponibilità di impegnare nell'attività di pronto soccorso non solo i medici e l'emergenza, che non ci sono, ma anche professionisti di specialità equipollenti, cardiologi, internisti, gastroenterologi, magari con contratti a termine e con l'impegno a stabilizzarli sulla specialità di riferimento quando partono nuovi concorsi. È l'ultimo tentativo che faremo per cercare. Abbiamo scoperto altri fenomeni, quando abbiamo deciso di utilizzare gli specializzanti, cioè giovani laureati in medicina, non parcheggiatori appositi, laureati in medicina, che si iscrivono alle scuole di specializzazione. A volte abbiamo i primari, i responsabili universitari che curano le scuole di specializzazione, che fanno un lavoro di dissuasione. C'è capitato di trovare alcuni giovani che erano disponibili ad andare a lavorare negli ospedali, ma ci hanno detto sottovoce, però il primario ci scoraggia. Una vergogna. Una vergogna. Altra corporazione. Anziché dare un premio ai giovani specializzanti che dopo il secondo anno vanno a lavorare negli ospedali, i baroni universitari li scoraggiano, ma non andate perché in qualche modo li ricattano, perché poi alla fine della scuola di specializzazione... Ma si può vivere in un paese del genere. Non dico alle autorità giudiziarie, ma facciamo un accertamento, vediamo come funzionano le cose.